Musica Ciao, sono Enzo Stormi, pratico il paycheck sealer da quest'anno, da gennaio Cosa ne pensi del corso di CDF che stai seguendo? L'insegnamento è fatto veramente completo, cioè viene tutto spezzato nei minimi termini e poi ricomposto, rimescolato in tutte le maniere è fatto veramente sia nella parte della gestualità che nella sequenza del combattimento che poi nell'applicazione, nel gioco tra uno e l'altro, questo è molto, molto divertente Musica L'ambiente è meraviglioso, i compagni Allora l'Accademia si dice Che luarga pensi a xilad nusantara Che luarga vuol dire proprio il concetto di famiglia E quasi tutti si cerca di fare una famiglia E poi sono tutti simpatici Non c'è mai tensione, c'è sempre allegria Non ho mai visto nessuno arrabbiato Se ci prendiamo in giro tutti quanti Nel dettaglio di tempo è troppo da rire Musica Musica E per quanto riguarda il maestro cosa ne pensi? Il maestro è uno completo insomma Inutile menarsi Ha fatto anche lui, ha praticato tante cose E soprattutto non si ferma la parte solo ci dobbiamo menare C'è anche tutto quello che riguarda l'arte marziale vera L'arte, la spiritualità, l'equilibrio L'abbattimento dell'ego Tutto il lavoro psicologico Sulla concentrazione Insomma Completo Molto completo e molto divertente Grazie M Sullaacing Sulla 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 Ma Sulla Evacher Grazie a tutti